Buonasera, sono Laura Antichi. Vi presento Padlet, un tutorial nella versione aggiornata del 2016. Nella versione estiva 2016 sono stati introdotti alcuni aggiornamenti. In giugno è stata rivista l'interfaccia utente migliorata la galleria. Una nuova funzione permette di visualizzare nelle note il nome utente. Naturalmente l'utente che annota deve essere registrato. Una modifica riguarda l'opzione Remake che sostituisce l'opzione Clone. Se si decide di usare questa funzionalità, si può creare una copia del proprio Padlet o del Padlet di un altro che abbia attivato la stessa funzionalità Remake. Con il Remake un altro utente potrebbe trasformare il Padlet copiato, arricchirlo e trasformarlo in un prodotto, in un progetto nuovo e creativo. Il Remake per tutti i nuovi progetti è attivo di default, ma è possibile sicuramente disattivarlo. È possibile decidere se copiare tutti i messaggi o soltanto il modello Layout. La funzione Remake potrebbe essere utile quando si desidera applicare lo stesso formato Layout a più gruppi, ad esempio a più classi. Ci sono, a mio avviso, dei pro e dei contro l'utilizzo di Remake. Il mettere a disposizione questa funzionalità è interessante se si è nello spirito dell'assoluta condivisione ed apertura. Sicuramente la questione dei Credits dovrebbe essere approfondita. Creare un Padlet vuol dire creare una bacheca di messaggi online. Si possono scrivere annunci, prendere appunti, usare la board per il lavoro collaborativo e può essere usato per organizzare materiali didattici e unità di lavoro. Utilissimo utilizzarlo per il brainstorming e lo scambio di idee, per la comunicazione in movimento, per un processo in costruzione, per surriscaldare le presenze, per far accadere eventi, per raccontare ciò che si è trovato, per fornire esempi. Serve per organizzare spazi di aggregazione di informazioni. È un utile strumento per l'insegnamento e l'apprendimento. È interessante da usare nella didattica Flipped e negli EAS, episodi di apprendimento situati. Nel momento preparatorio del lesson plan, è utile per organizzare i lavori di homework degli studenti. Il docente potrebbe rendere disponibili i materiali di una lezione per la consultazione. I materiali possono essere implementati come testi, audio, video ed altro. Nel momento operatorio del lesson plan, agito in classe dagli studenti, Padreth potrebbe rappresentare una bacheca collaborativa e gli studenti potrebbero creare anche il loro portfoglio. Nel momento di debriefing del lesson plan, Padlet è un ottimo strumento per il docente che può assemblare in un'unica lavagna un insieme di documenti che sono stati prodotti dagli studenti e che possono essere sottoposti alla revisione collettiva e di peer review e alla metà riflessione. Come si accede a Padlet? Scriviamo nella casella di ricerca in Google il nome Padlet e clicchiamo sul primo risultato che compare. Ecco, noi siamo entrati nell'interfaccia, possiamo registrarci se non siamo registrati o accedere se abbiamo già fatto in precedenza la registrazione. Io farò naturalmente accedi in quanto registrata e mi trovo nella dashboard. Nella dashboard vedete che sono presenti tutti gli ultimi Padlet che sono stati implementati sulla piattaforma. In Padlet trovo i Padlet da me prodotti, condivisi o che hanno avuto dei contributori. poi trovo la voce activity, attachment che mi raccoglie tutti i link o le risorse che ho allegato nei miei Padlet, i collaboratori, coloro che hanno partecipato ai miei Padlet e in setting posso andare a modificare le impostazioni naturalmente personali. Per creare un nuovo Padlet vado in New Padlet, in alto a destra, clicco e vedete che mi propone già un'interfaccia, un layout e un titolo di default. Vado sulla rotella e in alto a sinistra per la modifica del mio Padlet. Qui metterò un titolo, prova, mettiamo EAS, un titolo così a caso, 2016, e poi una description del nostro Padlet, va bene, copio del testo, e in questa description del mio Padlet, scusate, sono tornata indietro, quindi Padlet, prova EAS 2016, nella description, un po' il testo, comunque voi scriverete il testo che descrive il vostro Padlet e lo vedete comparire nella barra del Padlet. Poi ho come funzionalità quella di scegliere il layout, se Freedom, ossia che i messaggi che vengono postati possono essere messi casualmente, oppure Grid, vengono messi in una griglia, oppure vengono postati in una successione con Stream, e una successione in alto comparirà il più recente in questa successione. Poi ho l'impostazione di Wallpaper, cioè dello sfondo che vado a scegliere per il mio Padlet, posso con More vedere quello che mi propone il Padlet, ne posso scegliere uno che è presente, oppure posso anche a Deioar Aum, metterne uno a mio piacimento, scrivendo il link dal web dove prendo l'immagine che farà da sfondo, oppure uploadare un'immagine al mio computer, oppure fare una foto con il mio computer. Salvo subito, quindi Save, e posso procedere nelle altre modifiche, ossia aggiungere un'icona che magari tra quelle che mi propone, in More ne troverò altre, ne metto una, la prima che trovo in questo caso, ma potrei anche questa icona uploadarla dal, come vedete, ad Iora Aum, cioè dal mio computer, potrei inserire un'icona di mia preferenza e personalizzata. Vado in Save ancora, posso mettere i tag, e posso permettere agli utenti di visualizzare il loro nome nel momento in cui sono iscritti, come vi dicevo, attivando la funzione del show author name in post, nei loro post, che compare il loro nome. Vedete comparire anche l'indirizzo del Padret, che è lo stesso che compare poi nella barra degli indirizzi, vedete l'urla, insomma, del mio Padret. Save, ok, e quindi salvo le modifiche e chiudo, vado poi nella funzionalità sempre nella barra in alto a destra in more e vedete che ho la possibilità di attivare remake e di invitare delle persone di comunque condividere o embeddare sul sito il Padlet, di esportare, di naturalmente stampare, eccetera, eccetera. Comunque anche di apportare diverse modifiche. In share è molto importante guardare il problema della privacy nel senso che il mio Padret lo potrei fare privato, lo potrei fare protetto da password, secret e public. Privato rimane privato e potrò permettere quindi non visibile ad alcuni di accedere tramite il email quella che io segnerò qui enter email username e potrei questi soggetti che invito abilitarli pure in scrittura. Poi vedete che attiva la funzione di default remake potrei anche toglierla se non desidero che gli utenti facciano la copia del mio Padret per poi rimaneggiarlo. Moderation potrei decidere di voler moderare i messaggi. Protetto da password potrei inserire una password e permettere agli utenti anche qui di solo vedere o di scrivere eccetera eccetera noi naturalmente prevediamo che possano scrivere potrei mettere il nome del posso mettere il nome di coloro che voglio che contribuiscano al mio Padret quindi dovrei inserire qui la loro mail o ai loro username vedete che ho disattivato il remake personalmente in secret molto interessante normalmente è un ciascuno che abbia il link di questo Padlet o il QR code del Padlet può partecipare al Padlet e questa è un'opzione che normalmente noi utilizziamo nelle scuole secondarie magari di secondo grado e anche qui potrei decidere comunque di lasciare il Ken Wright solo alcuni contributori e dovrei aggiungere la mail username in questo caso di nuovo ho disattivato il remake in public invece il Padlet rimane disponibile aperto e visibile a tutti coloro che sono che lo raggiungono attraverso Google quindi questo research e quindi questo Padlet è possibile reperirlo con Google Research oppure nella pagina pubblica di Padlet con il più oppure cliccando due volte sul Padlet si possono aggiungere i messaggi nel Padlet il title come vedete e poi scrivere qualcosa e aggiungere dei multimedia ecco buona serata